Cerca esistenza del video, oggi siamo qui con Multicraft. E continuammo... ...esplorare fortezze del nede de l'ennie. E qui ci doveva essere lo spawn? No. Chissà che l'ha tolto. non posso ok un po' che aspetta sarà no beh se ti vedessimo saremo il mio gran punto no non ti vedo né te né il nick ecco dove siamo? oh dove siamo? e ora aspetta sto morendo io oh io c'ho una carota esce rientro ok siamo bloccati qui cosa facciamo? basta io torno a casa mi sono rotto fatemi ricordare perfettamente dove esso sia no si e di qua non ti vedo dovrò tornare nella casa soprattutto perché cerco di prendermi il lupo se c'è ancora comunque qualcuno mi ha dato una carota e vado a piantarla nel mio cuore e andiamo un po' fuori cerco il cane e cose di questo tipo capisco è davvero qui per aver riuscito tutto qui e quindi alla fine si è rimasta sta roba qui si infatti ho visto no vabbè ma allora non ci lascio questi corsi non continuano a cercare il portale ma lo sanno giusto che una volta che entro non possono più uscire almeno che non muoiono si che posso no no ma si è no si è vero se qualcuno ha ucciso il drago si può beh io cerco il lupo un maiale un maiale un maiale un maiale 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 pum 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 ragazzi stanno spawnando animali come mucca in un pagliaio in un pagliaio e non un pagliaio pagata pagati ti ha morso mi ha morso la mucca ma da dove perché è apparsa sta mucca e tu ti sei anche spostata no? è sparita era pagata boh ok mi sto teletransportando da elettricistri ce lo chiedo oh che caspita sono questi ahhh ok ci dovrebbe essere dubcino eccolo di bitch oh l'armatura di ti ha fatto e forse è quello che mi ha massacrata milioni di volte aiuto e non l'hai sempre falsa l'ora ah non lo so cioè tu non li hai visti i miei video precedenti eh però potrebbe essere tanto g allora eh sì ma non li hai visti i miei tizi che milioni di persone che cercavano di ammazzarmi come ma dov'è scusa se sto qui guarda sì ma dico ma dov'è scusa ma dov'è scusa ma non lo so dovrei tornarmene a casa ma come si fa adesso di tornare a casa eccoti benissimo mi sono arrivati a trovare fa appunto eccoti mmmm dai ci vuole così tanto per andare avanti non è che ci voglio molto ah sì c'è un po' di lava e basta ok mi devo fare tipo la via tutta scavata per arrivare fino in cima mamma mia che noia che pillole vero che roccia ma proprio che roccia rocciosa eh non quella roccia che sembra tipo bleh proprio ok ok riaccomi qua oh così questi non sono crashati non sono crashati ok ma strante si uh attenzione adesso mi vedono e mi ammazzano no 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 ok va bene sono in pace in teoria però mi fanno paura non vuoi uscire da qui ti massacrano se ti attaccano mi sono in due con tutti siamo con electric beh va bene però anche io no la vacca andava prima che delicente sono dettagli dettagli della vita sai no tipo quando vedi un pollo in realtà è una pecora ecco electric è entrato nel gioco ed è una pecora oh ho esploso qualcosa qui eh kaboom 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 po zero kaboom zero ma cosa stai facendo di preciso oh mi serve un po' l'acqua a me oh che casino dai riprendi una eh si ma quella è l'acqua fluida eh mi serve un po' l'acqua a me ah capisco ma stiamo in quattro che siamo qui da 30 anni e cercare di capire dove caspita dobbiamo andare non dovevi venire dicono sempre l'ho trovato e invece poi no ma appunto e qua c'è una parete fantastica mmm e quindi salve eh sta bene dalla raga oh mattoncino mmm attenzione mattoncino si è diventato ricchi altro che al mattoncino mattoncino siamo finiti salve tizzi salve tizzi se mi attaccaci con la mia spadina di ferro morirei si già dai attacca ma facciamo un esperimento no no un esperimento scientifico oh dell'acqua cost'acqua è moderna io dico che è arte moderna io gli farei una foto io gli farei una foto poi il bottone rovina tutto levati il bottone ho rovinato l'arte moderna no 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 ha distrutto tutto no no perchè sei crudere tu nei confronti dell'arte ecco e adesso la fedela ribeti prenda puni è molto aperitifica adesso eh allora contando che quei tizi sono supparuti sono morti in un lago di cacca perchè? una fontana bella non c'è arrivato più qua si meraviglioso uh grandioso ecco ma non ho mai come distrutta scusami ma perchè ci sono andate migliori di persone ma perchè la devono distruggere ma per prendere le cose ma che cosa ti prendi sta cosa qui wow arcipicchia una cessa vuota eh lo ho chissà tutta ma sta no 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 si è vero io me ne vado a casa sai com'è così mmm ci metto a prendere non trovo più l'entrata dai che se la trovate ci mettete bene oh si mette per questo non fare la sociale dai l'altro cerca l'entrata tu cerca l'entrata eh si fa bene così no no guarda ok fantastico questo non l'avevo contato non hai contato che magari hai quattro piani di di fortezza del land sopra? no no oh santo 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 pipocchio sei un tizio sei un tizio sei un tizio no pensavo che non fosse quello lì oh cara non ti sarei dietro simpatico dai su madonna madonna ok io risalgo così e mentre scavo trovo il ferro yeah l'hanno trovato non me ne frega nulla dai baci ti zitti sono appena tornato qui fuori dai figli cacchio land dai ma non lo so ti zitti papi è l'ultimo dei problemi poi a tornare su ci smetterà il quanto ci hai messo? oh caspita ascoltami stop cagami cagami un attimo sto cercando di capire quale è sto luogo si però che poi ci andiamo dai su voglio vedere è un villaggio no questa è proprio una casa di qualcuno si che è un deficiente era la casa di un qualcuno che è un deficiente perché lascia era non può servire ancora caso mie ok dai zippati adesso non so neanche dove sei dai no io lo so dove sono devo soltanto orientarmi un attimo va bene dai lo faccio solo per loro perché non ce n'ho voglia poi fantastico uh e adesso no questo è la pietà del land che roba epica e questo sarebbe land così piccolo io ci sono no questo è un'entrata un'entrata wow perchè l'ho fatto epico quello è una casa hanno fatto una casa qui si era come caspita di torno a casa zippati verso di lui ah ecco qua un tizio ok basta sono rotto io torno a casa hanno fatto una casa che roba epica ma non sono stati loro come si fa tornare a casa da qua adesso? si può come no io provo eh ah no mi date una spada decente uh e vai e vai un cavolo no dai perchè? l'hanno chiuso ah meno male non l'ha chiuso io ci esco da qui dai no non ci resta qui che bambino non c'è una voglia non c'è un cavolo basta vado assurdo no ora c'è tutta sta roba qui ah l'ho saltata e quindi caspita soffitto vai sulla spawn ok ah no aveva l'arco aveva l'arco spawn tuffa puff wiii boom ok adesso andiamo subito a cara velocemente vaiiii oh cavolini aah ciao cavallo iha cavalca me no 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 chi è? ok ok non mi ne frega io scappo eh anche se mi ha fatto il segno così non ti kill ho detto ok io dico ok ma scappo comunque perchè non me ne frega nulla no 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 oh capiterina oh capiterina no 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 ok 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 sto morendo eh Ok Quindi ragazzi questo è Multicraft E noi ci vediamo nel prossimo episodio